ciao a tutti ragazzi allora come vi avevo anticipato nel video della recensione dei solid marker della nissan oggi vi voglio proporre un nuovo giveaway che ha a che fare proprio con questi pennarelli siccome l'azienda me ne ha inviati tantissimi devo dire devo essere sincera sono talmente tanti che non so che cosa farmene ho pensato di regalarli a voi di farveli provare perché li ho trovati veramente interessanti come prodotto e quindi volevo dare l'opportunità ad uno di voi di provare allora io qui un piccolo sacchetto dove ho messo da parte dei colori in più per voi e tra questi ci sono anche due piccoli solid marker in versione mini molto carini uno verde e l'altro giallo fluorescente gli altri sono tutti in versione jumbo ossia la versione più grande e che sono rosso bianco vabbè qualcuno lo apro dai viola per farvi vedere anche le colorazioni quali sono poi abbiamo qui un giallo normale giallo primario e il nero allora sono in tutto 5 6 7 pennarelli 7 marchi allora io questi 7 marchi ve li voglio regalare quindi da questo momento in poi parte il nuovo giveaway vi assicuro che questi colori sono veramente strepitosi i miei preferiti tra questi sono il rosso e il viola poi c'è anche questo verde tra l'altro che io non ho però ve lo lascio volentieri ve lo regalo volentieri non voglio provarlo perché mi sembra brutto insomma ragazzi questi sono regali che voglio dare a voi e poi abbiamo questo colore fluorescente questi ho dimenticato di farvi vedere scusate dalla punta a volte sembrano più chiare di quello che sono ma credo che sia per la temperatura insomma quando me li hanno mandati sono arrivati in aereo e sicuramente hanno preso freddo perché la scatola era congelata quindi penso che sia stato lo sbaglio di temperatura ma funzionano perfettamente è solo una patina esterna anche i miei sono così vi spiego velocemente le regole per partecipare che sono sempre le solite in realtà se siete iscritti al mio canale le conoscerete già dovrete aggiungere un like a questo video aggiungere il video alla lista dei preferiti e condividerlo sulle vostre pagine social che dovranno essere a vostra scelta tra facebook twitter o google plus dovrete lasciare da uno a infiniti commenti dove potete scrivere ciò che volete e il giveaway sarà attivo per circa 15 giorni adesso non so sceglierò bene le date e vi scriverò tutto qui sotto nel box come faccio sempre poi verificate anche la data di scadenza e il giorno in cui verrà fatta l'estrazione che comunque verrà comunicata come sapete in uno dei miei video farò che questi regali siano di vostro gradimento approfitto poi per ringraziarvi di tutto cuore perché da poco tempo siamo arrivati a 5.000 ed io sono veramente molto molto contenta di questo non finirò mai di ringraziare i vecchi iscritti e i nuovi iscritti che mi hanno permesso di arrivare a questo traguardo vi ricordo poi i miei appuntamenti settimanali che sono il lunedì e il giovedì lunedì ci dedichiamo all'arte mentre il giovedì hai i lavoretti di crafting per ora è tutto buona fortuna un bacione e a presto ciao